Un caro saluto da Diego Fusaro, un caro saluto a tutti, torna a farsi sentire, non che ne avvertissimo particolarmente la mancanza, il bardo cosmopolita Roberto Saviano, il quale ancora una volta è sceso dal suo sontuoso attico di Nuova York, dove dimora sorvegliato dalla guardinga e ben remunerata scorta, ha posato le titillevoli aragoste rosse e il Don Perignone ghiacciato, è sceso come Apollo dall'Olimpo per attaccare Giorgia Meloni. Va detto che tra i due c'è una antica tenzone che dura ormai da anni, si rampognano a vicenda, anche nella conferenza alla festa di Atreio la Meloni ha attaccato il bardo cosmopolita e ora il bardo cosmopolita risponde per le rime asserendo che Giorgia Meloni è una dilettante. Ora sul fatto che Giorgia Meloni possa politicamente essere criticata nulla da eccepire, fa sorridere però che a farlo sia il bardo cosmopolita la cui visione politica e intellettuale è di fatto il completamento della globalizzazione neoliberale. Il bardo cosmopolita rappresenta al meglio la figura dell'intellettuale organico, diremmo con Gramsci, all'ordine dominante, la sua visione del mondo è la visione a sostegno del dominio dei dominanti ed è per questo che gode di tanto successo e di visibilità compare, fa le sue epifanie catodiche senza mai un contraddittorio, ovviamente sermoneggia e ortopedizza le masse in senso liberal progressista, insomma è un intellettuale a tutti gli effetti di completamento dell'ordine neoliberale dominante e ora interviene attaccando Giorgia Meloni e quindi ritagliandosi ancora una volta un suo spazio politico come portavoce del global capitalismo, left oriented perché poi Roberto Saviano attacca la Meloni ma non attacca mai il neoliberismo in quanto tale, o meglio attacca la Meloni non in quanto neoliberale dato che anche Saviano ha una visione ultra liberal, ma l'attacca sempre in funzione del teatrino di destra e sinistra ben collaudato in Italia e rispetto al quale lo stesso Saviano è del tutto organico.